ben trovati da marco liguori notizia dell'ultima ora in questo video parliamo di un lutto che ha colpito il mondo della musica e prima di sapere di più vi ricordo che a 200 like pubblicherò immediatamente un nuovo video una notizia che era nell'aria e purtroppo giunta per tutti i fan della musica si apprende che a 74 anni a seguito della lotta contro la sla ha perso la vita arthur pucci tavarez leggendario baritono del gruppo tavarez un gruppo americano ma di origini capoverdiane che ha avuto un grande successo soprattutto negli anni 70 e negli anni 80 se ne va un vero e proprio big della musica mondiale arthur tavarez è scomparso il 15 aprile amici di youtube io vi ringrazio per l'attenzione lasciate il vostro commento iscrivetevi al canale condividete questo video seguitemi anche sul primo ai di marco liguori e sul nuovo canale marco liguori psicologia e crescita personale ciao a tutti psicologia e crescita personale psicologia e pulghiamo